scopriamo la benefica meditazione con un cristallo di agata blu l'agata blu è una pietra dalle tonalità celesti e blu conosciuta per le sue proprietà calmanti e stabilizzanti è associata al chakra della gola che governa la comunicazione e l'espressione personale ecco alcuni benefici e utilizzi dell'agata blu nella meditazione rilassamento e calma l'agata blu aiuta a calmare la mente e il corpo riducendo lo stress e l'ansia aumento della consapevolezza questa pietra può aiutarti a diventare più consapevole delle tue aspirazioni e scopi nella vita espressione e comunicazione l'agata blu è nota per migliorare la chiarezza e la sincerità nella comunicazione aiutandoti a esprimere i tuoi pensieri e sentimenti con maggiore sicurezza equilibrio emotivo regola le emozioni promuovendo un senso di pace interiore e stabilità emotiva miglioramento della concentrazione può aiutarti a focalizzare la mente e a migliorare la tua capacità di comunicare in modo chiaro e conciso consigli per la meditazione trova un luogo tranquillo dove non sarai disturbato tieni l'agata blu nella mano destra o dominante per scaricare le energie e nella mano sinistra ricevente per ricaricarti della sua energia specifica puoi anche posizionarla sul chakra della gola ora concentra la tua mente sulla sensazione di calma e chiarezza immagina le sue tonalità celesti e blu che ti avvolgono portando equilibrio e stabilità emotiva visualizza l'energia dell'agata blu che fluisce attraverso di te favorendo la comunicazione e l'espressione personale respira profondamente e lentamente con ogni ispirazione immagina di assorbire l'energia calmante e stabilizzante dell'agata blu con ogni ispirazione lascia andare le tensioni e lo stress buona meditazione grazie a tutti 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 grazie a tutti